Fine anno con il fiato sospeso per gli oltre 500 lavoratori del call center aquilano che gestisce, per conto di Trascom, la commessa del servizio agli utenti di Inps, Inel ed Equitalia. Commessa scaduta a fine anno, di cui fino all'ultimo era incerta la proroga. Proprio nelle ore in cui a Roma falliva la trattativa tra sindagati ed Almaviva, con conseguente licenziamento di 1600 persone, sempre dalla capitale, è arrivata l'attesa notizia della proroga dalla commessa Trascom per la gestione del call center Inps. Hanno tirato un sospiro di sollievo i migliaia di lavoratori impiegati in Italia, più di 500 all'Aquila, che continueranno a lavorare per altri sei mesi in attesa del bando per la nuova commessa che, ha ribadito la senatrice del PD Stefania Pezzopane, dovrà rispettare le norme innovative contenute nel codice degli appalti e la legge di bilancio 2017. Si tratta in particolare della clausola sociale e dell'esclusione delle spese per il personale dal massimo ribasso, utili per tutelare i livelli occupazionali, ma anche la qualità del servizio, che si garantisce solo attraverso il riconoscimento delle competenze acquisite dai lavoratori. Comprendiamo, conclude la senatrice del PD Pezzopane, e sosteniamo ogni ragione finalizzata alla trasparenza delle procedure e dalla prevenzione di ogni sospetta forma di corruzione, ma, conclude, non siano i lavoratori a pagare i ritardi, errori o presunte illegalità.